Dal San Paolo a Libertà passando per Torre a Mare, Santo Spirito e Sant'Anna, da fine agosto i cantieri del capologo pugliese riprenderanno vita tra opere in fase di completamento e quelle da iniziare ex novo. Si inizia con il parco Maugeri che sorgerà sui suoli un tempo occupati dall'ex gasometro al quartiere Libertà. Qui i lavori si stanno quasi per concludere, l'area verde potrebbe aprire già per l'autunno al massimo entro la fine dell'anno. Partiranno entro la fine di agosto, gli inizi di settembre, i cantieri del piano periferie del San Paolo per un investimento complessivo di 7 milioni di euro. Nel dettaglio il progetto riguarda la riqualificazione di Viale delle Regioni con la sistemazione della piazza antistante e la stazione Cittadella, il ridisegno di Via Giacquinto con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale e aree attrezzate, Viale Puglia con la nuova piazza prospicente la parrocchia del San Paolo. Sempre al San Paolo continueranno i lavori per la rotatoria di Via Caposcardicchio e per la nuova Fogna da 5 milioni di euro, mentre cominceranno nuovi cantieri da 2 milioni e mezzo di euro per le condotte fognare a Santo Spirito e Sant'Anna. Ancora a Santo Spirito si darà il via al cantiere per il nuovo waterfront, un progetto da 4 milioni e mezzo di euro che prevede il complessivo rifacimento della pavimentazione e della illuminazione con la sistemazione di un nuovo arredo urbano. Proseguiranno i lavori allo Stadio San Nicola con la sostituzione dei petali, le coperture ormai rimosse o logorate per un importo di oltre 5 milioni di euro e infine i lavori per la realizzazione del Museo della Radio e del Museo dei Fari e delle torri costiere all'interno del faro di San Cataldo e il Parco per Tutti a Torra Mare con la realizzazione di una piazza circolare, di una quadrata e di un percorso pedonale.